Preghiera della Sera O Dio, se fossi respinto a causa del Tuo nome, se lo fossero i miei familiari, fa che mi attacchi allora tanto più saldamente a Te per contribuire alla salvezza di coloro che sono manifestamente lontani da Te. Te lo chiedo per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli, dei secoli. Amen.